la ricetta della felicità è una bella domanda allora per trovare la ricetta giusta per essere felici è innanzitutto quello di vivere la vita con più serenità guardando ciò che di bello abbiamo noi molto spesso ci soffermiamo troppo a vedere quello che non abbiamo e vedere quello che gli altri hanno invece se non ci soffermassi un attimo alle cose belle che abbiamo ogni giorno la nostra vita sarebbe diversa dovremmo sorridere di più essere più felici delle dei traguardi degli altri e condividere di più quello che abbiamo e poi dobbiamo quello che gesù ci chiede di fare dobbiamo amare 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 gratis solo in questo modo noi davvero riusciamo a a vivere la felicità ma una felicità che non dobbiamo pensarla come qualcosa che si raggiunge e finisce ma ogni giorno dobbiamo alimentarla e questo grazie alla presenza di dio alla presenza di cristo nella nostra vita